La vittoria straripante del presidente uscente Vincenzo De Luca che sfiora il 70% conferma la leadership del centro-sinistra in Campania. Il Partito Democratico è il primo in regione con 16,95% delle preferenze, ma è boom della lista De Luca a presidente che si attesta al 13,29%. Con il premio di maggioranza al centro-sinistra vanno 32 consiglieri, nella precedente legislatura erano 31, ma il PD per la logica delle liste collegate al presidente che hanno superato la soglia del 3% perde la metà dei consiglieri rispetto ai 15 della scorsa legislatura. Il Movimento 5 Stelle che si attesta al 10% dovrebbe poter contare su 7 consiglieri. In termini assoluti il vero e proprio record man di questa legislatura è Mario Casillo con oltre 42 mila voti. Ottima l'affermazione delle donne del PD, Loredana Rai a 26 mila voti e Bruna Fiola a 23 mila voti. Certi di essere eletti nel PD anche Massimiliano Manfredi con 18 mila voti, Vincenzo Amato 15 mila voti. A Salerno è Francesco Picarone del PD, 18 mila voti il più votato. A Caserta il più votato è Giovanni Zannini, De Luca a presidente, 19 mila voti capaci di staccare Stefano Graziano del PD a 16 mila voti. Ad Avellino il leader è Vincenzo Alaia di Italia Viva, 15 mila voti, mentre spicca il nome di Livio Petitto, partito animalista capace di racimolare oltre 11 mila voti. A Benevento Luigi Abbato e Noi Campani è il più votato con circa 10 mila preferenze. Il Movimento 5 Stelle, come detto, dovrebbe riuscire a portare in consiglio sette candidati, ma ci attesa ancora per il riparto di un seggio, compresa Valeria Ciarambino. Per l'intero centro-destra invece sono 11 consiglieri accreditati, compreso Caldoro, migliore performance per Fratelli d'Italia che piazza due consiglieri Marco Nonno e Michele Schiano.